Mi suggerivano i simatici autori e autori, infatti sai che io lo vedo, ormai non fa, io sono andato a vedere l'altra, ma ormai lo stanno così, perché sono di classica. Tu, a mattale, fai il tassino. Sì, te l'ha bene, non mi ha besti i detti. Prenditela con quel signore lì che si piaccia ancora per me, non è andato a me. No, 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 no. Beh, ci sono i carici.